Ok oggi voglio dirvi le mie 5 canzoni che uso per spezzare il ghiaccio quando sono in compagnia Sappiamo tutti che suonare la chitarra e soprattutto cantare davanti alle persone non è facile Soprattutto quando una volta che prendiamo la chitarra siamo davanti a delle persone Ci viene il vuoto totale completamente delle canzoni Allora io vi dico queste 5 canzoni che più o meno statisticamente provandole su 100 volte funzionano Vi ricordo sempre prima di iniziare che c'è il mio video corso chitarra digitale per imparare a suonare in descrizione E anche i miei plettri La prima canzone che voglio suonarvi è una canzone che uso praticamente sempre Quasi la mia prima canzone quando non so veramente cosa suonare Quando non riesco a capire chi ho davanti, che tipo di persone davanti, grandi, piccoli C'è un misto di persone e inizio sempre con una canzone che fa cantare sempre tutti Vi lascio gli accordi in sovraimpressione così almeno potete sapere gli accordi che sto suonando Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90 Rosse di fuoco comincia la danza, frecce con dietro attaccate una targa Dammi una special estate che avanza, chiami una Vespe e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi Una Vespe special che toglie i problemi, ma la scuola non va Ho una Vespa, una donna non ho, ho una Vespa domenica e già Una Vespa e mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori città Dopo aver suonato questa canzone passo alla seconda canzone, insomma passo all'internazionale Ok hai sempre un gruppo famosissimo, un gruppo che ha spaccato e che la riconoscono tutti, la cantano sempre tutti Mi avvicino lentamente al manico della chitarra e inizio a suonare Do you have the time to listen to me once? About nothing, everything, all at once I'm no of those melodramatic folks Can't ride it to the phone and talk about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me So keep adding up, I think I'm craving up I'm just a paranoid, just a storm 98% la canteranno tutti Terza canzone, dipende un po', questa è molto odiata ma è anche molto amata Quindi non si sa bene dove collocarla Di certo se è notte vi consiglio di provarla e metterla in mezzo al repertorio Ma siete lì che state parlando e poi c'è Certe notti la macchina è calda Dove ti porta lo decide lei Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai Certe notti la radio che passa e lì non sembra avere capito chi sei Certe notti somigliano a un vizio che tu non puoi smettere, smettere mai Non si può restare soli Certe notti qui Chi si accontenta con me Così così Quelle notti io starai sveglio Uno starai sveglio La situazione qui si fa è interessante perché la gente canta, la gente non canta Alcuni si divertono, alcuni la odiano Fino a che poi passiamo ancora all'internazionale con un'altra Colonna portante della musica Tagliamo su Yesi, spiazziamo il capo tasto sul secondo tasto Tra l'altro il capo tasto che uscirà tra poco su Amazon E iniziamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E qua tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ultima ma non meno importante Ci piazza sempre un indie italiano Un Calcutta lì Visto che dobbiamo essere anche contemporanei e vedere un po' Ho notato che questa 9 volte su 10 piace alla gente Perché i ragazzi, la gente ascolta Calcutta Gli piace l'indie, ok? E qui iniziamo Lo sai che un'altra tipirina Cinquecento se ne prendi due Di ventamille Si vede che hai provato qualcosina Parlano, parlano le tue bufile E adesso che mi prendi per la mano Facci piano E se mi stringi così Io sento il cuore a mille Io sento il cuore a mille Bene, queste erano le mie cinque canzoni per spezzare il ghiaccio Quando siete in compagnia Fatemi sapere cosa ne pensate Scrivetemi quali altre situazioni Spiegarvi nei video Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao